Un'estate col sorriso al laghetto di Villa Ada. Dal 1 agosto al 7 settembre a rallegrare le serate capitoline sarà la rassegna e l'OV Comico. Sul palco si alterneranno i più famosi comici italiani da Riccardo Rossi, Max Giusti, Dario Cassini, Antonio Giuliani, Pablo e Pedro. A Max Tortora, Andrò Perroni, Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Dado, Giobbe Covatta, Antonello Costa, Martufello, Enrico Montesano, Antonio Rezza, Marco Mazzocca e tanti altri. Quest'anno faccio una settimana, siamo a personaggi. Dopo 7 anni ho ritirato fuori i miei personaggi, quindi tutti quelli di Radio 2 Supermax, più il ritorno di... ho tornato a travestirmi, l'Odito, Malgioglio, Albano, ci avremo poi Patrizio Cantamore, Bono Vox che fa una versione di One dedicata a Roma che è bellissima, non ve l'anticipo, è stupenda e quindi c'è il meglio del mio ultimo spettacolo, quello che avete visto, le parti assolutamente più comiche, ci sono dei momenti stupendi della mia carriera, tutti i personaggi nuovi e vecchi, rifatti, riscritti e tutto nuovo. E' veramente... poi si chiama personaggi, proprio per non sbagliarci, sono 10 anni che me lo dico, quando è che rifai personaggi, quando è che rifai personaggi... eh, adesso rifaccio i personaggi, va bene? Ecco. Ce n'è uno a cui sei più affezionato? Ma adesso mi diverte molto Bono Vox, sono sincera. Bono Vox che canta per i paesi poveri e che quindi fa i concerti in tutto il mondo per aiutare l'Italia. Where the Streets Have No Name diventa Where the Imps Have No Name. Italiano, molto di fa, vorresti andare in pensione? Ma tatta chi arca? E poi, insomma, adesso la vedete là. Faremo un escursus di, credo, 15 anni e faremo 17-18 numeri, io mi cambierò 18 volte, come al solito. Ho quattro ballerine, quattro trans della regione Lazio, me le passa l'Inps, rimasugli del vecchio presidente e... Questa, tagliatela. E ci sarà il notaio, è possibile, non è possibile, è impossibile, in questo caso specifico è possibile. Ci sarò, sarò presente io specificatamente, anche se ultimamente sono andato a trovare il mio nipote che sta in America e vi devo raccontare delle cose dell'America incredibili. E poi ci sarà il segno, pure io, c'è pure io, perché io pulisco tutti, alla fine di tutti gli spettacoli, comunque devi pulire. E quel giorno poi dopo rimane pure un po' di più. Praticamente purtroppo in questa società che va sempre più a rotoli c'è chi sta uccidendo la televisione, chi sta uccidendo il cinema, chi sta uccidendo la musica, chi sta uccidendo l'educazione civica, chi sta uccidendo l'italiano e purtroppo c'è anche chi sta uccidendo la comicità. I maggiori indiziati sono appunto Pablo e Pedro, che appunto sono Pablo e Pedro che attraverso il loro spettacolo dovranno dimostrare che non sono loro che stanno uccidendo la comicità. E quindi poi alla fine attraverso lo spettacolo sarà il pubblico sovrano, perché il pubblico è sempre sovrano, che deciderà, speriamo insomma che decidano per il meglio, che non sono Pablo e Pedro che stanno uccidendo la comicità in parietà. Può aggiungere qualcosa? Rapprendere un caffè. Esatto. È in realtà solo un pagliativo per dire il meglio di. Soltanto il meglio di è un po' brutto, sembra un po' provinciale. Allora Resital è più nobile, però è il modo per fare le cose migliori di un repertorio, tra cose nuove e cose storiche, un po' più collaudate, per avere una sorta di assegno circolare di garanzia per le risate. Sul palco di teatro quest'estate con uno spettacolo che ancora non so cosa sarà, perché decideremo in istanza. Il live ha sempre un sapore diverso da quello del teatro, è un momento a sé, quindi soprattutto per me che lo vivo in maniera abbastanza polietrica con dei musicisti sul palco e quindi la possibilità di poter avere una trasversalità che alcune volte è difficile trovare. Quindi mi sento molto fortunato da questo punto di vista. Rincontro colleghi con cui ho esordito io a Roma, mi ricordo dei periodi di Roma-Cabba, e tra l'altro devo fare proprio un'attestazione di stima a chi ha organizzato la rassegna, anche perché sappiamo che Roma, e lo sanno in tutta Italia, quest'anno rischiava di non avere alcuna rassegna comica d'estate. Per anni, voglio dire, era un fiore all'occhiello, però è strano perché poi si dice che nei periodi di crisi la gente ha bisogno di ridere ancora più o quantomeno di sorridere. Però se poi le manifestazioni non si fanno più, due sono le cose, o non c'è crisi o c'è qualcuno che fa più ridere dei comici, e allora non c'è neanche più bisogno della comicità. Parlerò di Michael Jackson, ovviamente, poi parlerò forse della mia agenda, Roberto Ciufori se ne va, lo salutiamo. Amici, guardate, Roberto Ciufori, che va via, guardate, arrivo, adesso, così poi sistemiamo quella cosa. Vabbè, ok, ciao. Diciamo, della filo, pazzo dicevo di Alberto, ah, poi del mio grande incontro con Alberto Sordi, perché insomma, voi sapete che sono pazzo di Albertone, quindi racconterò come finalmente sono riuscito a farmi una foto dopo tanti anni, sin da piccolo, quando provavo a farmi una foto pure, non ci riuscivo. E poi, Michael Jackson te l'ho detto, il famoso plagio della storia tra il brano tra Albano e Michael Jackson, e poi, non lo so, ancora devo fare la scaletta. Nello spettacolo diciamo che è un po' un remake di tutti gli ultimi spettacoli fatti negli ultimi 5-6 anni, con questo inizio molto particolare che parlerà un po' della brutta figura che abbiamo fatto noi italiani negli ultimi mondiali, ma non tanto per la squadra, ma più che altro per gli italiani che sono andati lì a seguire la squadra. La squadra, insomma, sono andati in Brasile, quindi immaginatevi voi che dopo tre giorni sono dovuti tornare a casa e magari avevano preventivato un mese in Brasile fino alla finale, quindi hanno dovuto riavare a casa e dicendo, amore, sto tornando. Anzi, vorrei fare per la Croazia perché l'Italia ormai è uscita, quindi nel senso che prendiamo e vogliamo bene a questa nazione, però insomma abbiamo anche quel piccolo lusso noi italiani di andare fuori e divertirci. In questo caso purtroppo i mondiali sono andati male e poi da là partirà un po' tutta la storia che parla di noi italiani, di come siamo, delle abitudini che abbiamo e non dobbiamo copiare le abitudini degli altri. Mi hanno sempre snobbato a Roma affinché non eravano Andrea Bianco e Fabio Censi che dice, guarda, quest'anno tocca pure a te. Allora io con molta soddisfazione e allegria vengo a fare questo spettacolo a Billada e chi è bello viene a vedere Martufello.